Se avete bisogno di un'aggiunta di soldi in GTA V Online solo per PS4 o PS5 potete contattare la pagina in descrizione che è un ragazzo molto serio ed affidabile pertanto ve lo consiglio. Bella a tutti ragazzi io sono Adri e benvenuti in questo nuovissimo video dell'aggiornamento settimanale del giovedì come ogni giovedì appunto qui sul mio canale. E proprio per questo mi raccomando se non vi volete perdere i prossimi episodi dell'aggiornamento settimanale andate qua sotto iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche così appena esce il video il giovedì ovviamente vi arriverà direttamente la notifica e potete venire subito a vederlo. Per quanto riguarda oggi come vedete qui alle mie spalle abbiamo la Ocelot Ardent qui sul podio nel casino ottima auto da poter vincere questa settimana. Come al solito fatemi sapere qua sotto nei commenti se siete riusciti a vincere l'auto della scorsa settimana per quanto riguarda me purtroppo non ci sono riuscito e speriamo di vincere questa di questa settimana. E ovviamente fatemi sapere anche se siete riusciti a vincere l'auto di questa settimana ovviamente incrociamo le dita mi raccomando lasciate like raga e speriamo di vincere l'auto. Cerchiamo di arrivare e superare i 500 like per questa cavolo c'ero quasi invece no vestiti di nuovo mannaggia per due caselle per un attimo ci ho sperato vi dico la verità. Vi dicevo lasciate like e cerchiamo di arrivare e superare i 500 like al video come al solito raga ce l'abbiamo sempre fatta vi ringrazio a tutti per lasciare like e vi ricordo anche di ritirare il bonus giornaliero sono mille fishe che praticamente sono gratis e ci passate qua e quindi non vi costa nulla insomma e vi prendete ste mille fishe. Poi andiamo a vedere subito nel sito di legendary motorsport le offerte partiamo ovviamente da legendary motorsport e vediamo un po' che cosa ci preserva la rockstar questa settimana. La nostra prima offerta è la pegassi toros che passa da 498 mila dollari a 348 mila dollari poi abbiamo la dinka vindicator che passa da 630 mila a 441 mila dollari. Ah raga prima che continuo ve lo spoilerò anche qua sicuramente l'avete letto nel titolo questa settimana ci sono soldi ad rp quadrupli e tra poco vi spiego che cosa sono vi faccio vedere prima le offerte poi vi parlo dei soldi ad rp quadrupli e doppi che ci sono questa settimana. Poi qui sul warstock abbiamo il car armato di invade e persuade che passa da 2 milioni 275 mila dollari a 1 milione 365 mila dollari un'offerta buona. E raga la scrumjet che passa da 3 milioni 480 mila dollari a 2 milioni 88 mila dollari questa è un'ottima offerta se vi piace la scrumjet vi consiglio di acquistarla questa settimana mentre è in offerta. Poi abbiamo il thruster che passa da 2 milioni 750 mila dollari a 1 milione 925 mila dollari anche questa è una buona offerta non buona come per esempio quella sulla scrumjet però dai hanno quasi tolto un milioncino. Questa settimana è tornata un'offerta sull'elitas travel come vedete c'è il cubano 800 che passa da 240 mila dollari a 144 mila dollari e vabbè insomma per quanto riguarda questa non è che sia un'offerta chissà quanto vantaggiosa siccome sono 100 mila dollari di sconto che alla fine ormai in gta online sono pochissimi. Per quanto riguarda il South and San Andreas come vedete abbiamo lo slam track in offerta che passa da 1 milione 310 mila dollari a 786 mila dollari. Poi abbiamo la Nagasaki Chimera che è una moto molto particolare da 210 mila dollari a 147 mila dollari. Per quanto riguarda le offerte sui veicoli sono terminate qui purtroppo non ce ne sono altre sul warstock siamo andati molto bene perché comunque per chi gli dovesse piacere la scrumjet quella è veramente un'ottima offerta che secondo me vale la pena. E invece per quanto riguarda le proprietà raga questa settimana veramente lo schifo più totale perché non c'è nemmeno un'offerta zero. Niente sul Maze Bank Forclosure niente sul Dynasty 8 e nemmeno sul Dynasty 8 Executive veramente il nulla. Quindi per chi di voi voleva acquistare un business o in generale comunque una proprietà questa settimana non ci sono sconti purtroppo. Per cui se volete comprare qualche proprietà magari aspettate la prossima settimana a partire da giovedì prossimo sono sicuro che ci sarà qualche offerta per quanto riguarda le proprietà. Passiamo ora al guadagno per quanto riguarda il guadagno come vi ho detto prima ci sono soldi ad rp quadrupli e soldi ad rp doppi questa settimana. Vi parlo di entrambi partiamo da soldi ad rp quadrupli che potete trovare sugli eventi free mode quindi tutti gli eventi che per esempio fate come lotte tra business eccetera eccetera hanno soldi ad rp quadrupli. Per intenderci anche quelle che dovete buttarvi col paracadute aprire più tardi il paracadute oppure dovete fare l'impennata con la moto eccetera eccetera. Insomma tutte quelle attività che mentre siete in free mode vi propone proprio il gioco di per sé. Quelle attività avranno soldi ad rp quadrupli il che è buono perché comunque soldi ad rp quadrupli vi permette di guadagnare un sacco in più ma alla fine non so se è più vantaggioso rispetto ai soldi ad rp doppi che sono stati aggiunti questa settimana. Questo casomai fatemelo sapere nei commenti se siete riusciti a comparare queste due attività e vediamo un po' quale delle due è più conveniente. Per quanto riguarda soldi ad rp doppi andiamo su online avvio rapido avvio attività e andiamo su create da rockstar dopodiché andiamo nella sezione modalità competizione e dobbiamo andare sull'attività che si chiama guerriglia motorizzata. Come vedete guerriglia motorizzata ha soldi ad rp doppi secondo me è una delle attività almeno per quanto riguarda me più redditizie e anche più divertenti allo stesso tempo che ci sono in gt online. La cosa buona è che si può giocare anche in 28 giocatori se riuscite a giocare questa attività in 28 giocatori con soldi ad rp doppi e massimizzate i potenziali guadagni riuscite anche a portarvi a casa dai 200 ai 300 mila dollari ad attività. Considerate che per avviare questa attività non c'è bisogno di nulla quindi anche se iniziate il gioco e siete rango 1 potete avviare questa attività e praticamente vi portate a casa un sacco di soldi e un sacco di rango. Mi raccomando la cosa fondamentale lo dico in ogni video e lo ripeto anche qui velocemente è che all'inizio del gioco dovete arrivare a 2 milioni 200 mila dollari che potete arrivarci in 100 mila modi differenti. Un modo tra questi appunto è fare questa attività con soldi rp doppi che trovate nelle modalità competizione e una volta che siete arrivati a 2 milioni 200 mila dollari praticamente vi acquistate il cosacca. Se volete saperne di più trovate il video su come guadagnare soldi nel mio canale vi consiglio di andarlo a vedere perché lì poi capirete meglio perché vi ho consigliato questa cosa. Però sappiate solo in breve che se acquistate quella cosa non avrete mai più problemi di soldi in ct online quindi all'inizio sarà un po' tosta dovete accumulare appunto questi 2 milioni 200 mila dollari vi faccio vedere appunto nei miei vari video come si fa ci sono differenti metodi ripeto e una volta che ci siete arrivati siete a posto veramente. Quindi non spendete soldi per cavolate all'inizio soprattutto e vedrete che poi vi darà tanta soddisfazione il cosacca. Bene raga mi sono voluto soffermare su questa cosa più che altro perché me l'hanno chiesto veramente in tanti ultimamente per quanto riguarda le attività soldi rp doppi e tripli quindi un attimo l'ho spiegato. Per quanto riguarda quindi le attività soldi doppi tripli e quadrupli sono terminate qua ce ne sono solo 2 di cui appunto vi ho parlato. Adesso andiamo all'autoraduno di LS una volta che arriviamo vi faccio vedere l'auto sul podio lì nell'autoraduno di LS e come si vince questa settimana. Ed eccoci qua raga nell'autoraduno di LS e come vedete alle mie spalle abbiamo la fair leader che potete vincere completamente gratis questa settimana basta che andate nel menu interazione autoraduno di LS dovete essere qua dentro per vedere questo menu. Andate su sfida del veicolo trofeo e una volta che siete qua come vedete dobbiamo posizionarci tra i primi 3 per 3 giorni di fila. Quindi in realtà questa è abbastanza semplice da fare se avete la possibilità di giocare per 3 giorni di fila almeno non è 5 o 7 giorni di fila e dobbiamo posizionarci solo tra i primi 3 quindi basta che vi organizzate con dei vostri amici fate delle gare a turno arrivate nei primi 3. Mi raccomando l'importante è che fate le gare della serie di gare clandestine che potete avviare parlando con il tipo lì che vedete in minimappa lì c'è un tipo andate a parlare con lui e da lì potete avviare le gare. Per quanto riguarda quest'auto veramente ottima anche la colorazione mi piace molto e andiamo adesso a vedere le auto del test drive che troviamo qui da questa parte questa dovrebbe essere la Fister 811 cabrio se non mi sbaglio vediamo un attimo esattamente questa è la Fister 811 che potete provare in alternativa abbiamo la Mamba molto bella anche questa con questa livrea e questa è la Pegassi Toros. Per quanto riguarda le prove a tempo abbiamo la prova a tempo di Ao che praticamente si trova poco sotto il casino la prova a tempo per l'RC Bandito che si trova nella casa di Madrazzo e la prova a tempo normale che si trova nel Gran Senora Desert. Bene raga siamo arrivati alla fine del video spero che vi sia piaciuto come al solito in tal caso mi raccomando lasciate like iscrivetevi se ancora non siete iscritti veramente importante qualsiasi cosa fatemi sapere qua sotto nei commenti appena riesco vi rispondo. Grazie a tutti per la visione noi ci vediamo giovedì prossimo con il prossimo appuntamento dell'aggiornamento settimanale e detto questo da Adri è tutto un salutone bello a tutti ciao raga.